È veramente una grande vittoria, sono molto felice perché era tanto tempo che non facevamo una vittoria così netta in casa con una buona squadra e maggiormente felice perché è una vittoria di gruppo, una vittoria che dedico a noi stessi, solo a noi stessi, all'allenatore e al gruppo a chi viene, a chi ha voglia di venire, a chi ci mette sempre la faccia nonostante vinciamo, perdiamo, pareggiamo, la gente parla noi siamo sempre qua, ci mettiamo sempre la faccia, un gruppo molto giovane ma con tanta voglia di fare bene adesso ci aspettano gare difficilissime, lo sappiamo, questo era il nostro obiettivo numero uno, vincere questa partita tutto quello che viene d'ora in poi lo prendiamo a braccia aperte, siamo soddisfatti, oggi godiamoci questa grande vittoria questa grande giornata, ripeto, di gruppo e andiamo avanti Hai pienamente ragione, ce l'ha detto anche Freddy nello spogliatoio che dovevamo uscire sul tiratore all'inizio aspettavamo, avevamo paura dei passaggi al pivot, poi abbiamo capito che dovevamo uscire e rischiare i passaggi e infatti loro hanno sbagliato tanti passaggi al pivot, tanti tiri sbagliati, grande prestazione di Valerio San Paolo in porta e loro hanno smesso di far gol facili da fuori e noi siamo stati bravi a riburre palla, a metterla dentro una gran bella partita, tutti veramente bravi Il pubblico ha fame, vuole vedere queste partite, noi da parte nostra credo che li abbiamo fatti divertire oggi e noi abbiamo bisogno di loro, loro hanno bisogno di noi, speriamo che questo connubio prosegua col tempo e come sia qui anche in altre piazze italiane